Continuiamo la nostra avventura, spero che siamo quasi al termine, non ne siamo certi, però speriamo. Ricordavate? Qua c'era la pioggia di sangue, tutto, siamo entrati in questa casa e poi abbiamo deciso di fermarci. Sento dei rumori strani. Mi mangiano. Come ti mangiano? Sì, sì, sento qualcuno dietro che mi sta inseguendo. Faccio il trataggio subito. Oddio, qui davanti. Era un uomo albero. Era un uomo albero, ve l'avevo detto io. L'avevo dichiarato. C'erano in testa, c'hai ragione. Non so che c'hai ragione, ma come facciamo? Oddio. Oddio, viene da noi. Oddio. Anche lui ha detto oddio. Tutto chiuso, ma porca. Oddio, sta arrivando. Guarda, 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 arriva. Ci mangia. No, ti prego. Dai, magari non ci vede. Ci bastona con i rami che hai in testa. Oddio, arriva. Guardalo, 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 guardalo. Ci ammazza. Non lo guarda. Via, via. Via. Vai sotto, sotto, sotto. Ho sbagliato posto. L'ho sbagliato, ragazzi. Lo strozzo anche, vabbè. Vabbè. Ok, ma quindi come cazzo faccio qua? Allora, torni indietro. Ti nascondi. C'era un posto dove prima c'era stato. Nasconditi. Ma dove? E prima, là, o là, là. Se non ricordo male. Ok. Ma ci vede sicuro. Ma no! Vedrai. A parte che non è come Ted che lascia le impronte, però. Da qualche posto c'era da andare comunque. Ora sono questi stronzi qua. Stanno spaccando le porte, stanno spaccando tutto. Che palle, ci fermiamo sempre in questi punti. Cioè, quando finiscono gli episodi. Che ricominciamo dove c'è subito l'azione. E siamo storditi, tra virgolette. Ci vede sicuro? No, non ci vede. Sì, guarda, guarda che è tutto 4-4. Ci vede? No, 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 no. Ha aperto con l'altro, vero? Ma apre anche il nostro. Non lo apre il nostro. Ah, vuol dire che è voluto. Se salta il nostro e va su un altro, vuol dire che è voluto. E dai, mi hai fatto col culo ora il gioco, scusate. Boh. Ah, guarda, ma anche dentro l'hai visto? Sì. Roba che se noi eravamo dentro là, non ci avrebbe mai guardato. Esatto, avevo guardato dentro gli armaditi. Magari, non lo so, sto sperando a caso, ragazzi. Magari voi c'è a culo se avete un luco armadito che non guarda, ma è improbabile. Non c'è che ripassa adesso. Dai, muoviti. Sotto dei versi strani, cioè... Eh, 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 fa così. Già visti? Stanno usando, sti già affiutati. No, no. Dormela. Già visti? Già visti? Credo. Ok. Proviamo, eh. Guarda, non corro perché non sono a strada. Salvataggio. Corriamo, qua si corre. Olimpiadi. Vai, vai. Sono stronzo proprio, eh. Sì. Ho curvato male. Vabbè, ma si gratta il fagiano. Non è che si riparte di lì, si riparte di lì. Sì, sì. Primi dieci minuti di gameplay passati da scorsa. Sì, dentro un armadietto, praticamente, per capire. Però, vabbè, ce l'abbiamo fatta. L'importante è quello. Cioè, dieci minuti no, ma comunque cinque tutti, sicuro. Vai, amico mio. My friend. Cosa è sta roba qua? È l'ostacolo che ti pongono. Vabbè, comunque è avventura grafica che è qua, praticamente. Qua sì, vabbè, corri, ma scontatissimo. Ecco fatto. Ora siamo salvi. Con due mini albero. Guardalo, guardalo. Ah, bello. Ah, bello. No, arriva. Non ce la fa, non ce la fa. Oddio. No, 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 no. No, ma salta, il mio amico non salta. Oh, non va. Ragazzi, non mi passa, guardate. Fatto col culo, proprio. Magari non devi saltare fuori dalla finestra. Guarda bene dove andare. Qua. Ok. C'è la luce, scuola. Immaginavo, ragazzi. Perché? Scontato come la merda. Vabbè, tanto sapete che è giusto così, ma è delusione. Anche è giusto, questo si dice, no? Sì, qua c'è la luce, grazie. Si dice andare in quella finestra, la luce, la luce. No, vedo tutto che sta facendo. Ma non è caccolto io, ma è un po' quanto mi sta interessando il gioco ormai. Allora, finestra un' aperta. Olle, che viva, siamo a scuola. Qua? Eh, che bello, che divertimento. Qua è chiusa. Eh, 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 eh. Eh, strano, eh. Oh, amiche, qua ci sono tutti gli impiccati. Sì, sì, mi grattiamo i fagianini. Mi sta che c'è qualcosa. Sì. Cos'è sto cazzo qua? Ah, è caduto il Cristo. Bene. Sono un po' di raschio, ragazzi, scusate se parlo un po' male, ma... Ovviamente quando registro mi viene, non è che mi viene in altri momenti. Che ci faccio? Fila! Io non capisco perché hanno fatto 20.000 porte, di cui i 19.000 sono sempre chiuse. Corriamo, dai. Orazio! Oh! Attenzione, Orazio! Tanto è chiuso. Vabbè. Eh, figuriamoci, sto impiccato, ha rotto il cazzo, oppure questo. No. Qui non c'è da andare. Bagno delle donne. Uh! Però qua c'è Orazio che esce. Carta igienica! Ah, no, vende. Carta igienica! No, è visto bianco. Si aprirà. No. Oddio! Muoia! Vabbè, di qua non si va, ho capito. No. Bagno dei maschi, assai più pulito, eh, devo dire. Niente, signor Orazio. Che va a fare, visto che tutto ne c'è, si va a fare merda ovunque come episodio. Oh, ce l'abbiamo dietro! Si, abbiamo... Ma dai! Guardalo, guardalo, e lo giro. E mo? E mo? No, ragazzi, avevamo l'ombra. Bastardi. Lo ho visto anch'io, però quando gli ho fatto la mosso, guarda, eh. Guarda, tu era l'effetto dell'ombra. Dici? No. No. Ah, però si è aperta la porta. Però si è aperta, vabbè. Ma qua di nuovo? No, la libreria, mamma mia. Oh, senti Dio. Che divertimento la scuola, eh. La c'è la luce. Si, infatti, no. No, Orazio! Orazio. Madonna. Torna indietro ora. Si è morti. No, no. Anche prima ce l'avevamo dietro, davanti, ovunque. E' voluto così. Ah, vabbè. Credo. Quindi mi invento la strada a caso. C'è la musica seria tipo La Cosa. Film. Eccolo qua. Orazio, hai visto? La Cosa, film di John Carpenter e ragazzi. Eccolo. Merda, quant'è ci prende? Stavolta ci segue. Il mio giro. L'onculo. Labyrinth. Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio. Che palle. Che palle. Vabbè. Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio. Che palle. Che palle. Vabbè. Ora ce l'ha presi, ragazzi. Oh. Madonna. Qua era. Eccolo qua. Via, via. Sì, sta vibrazione ha rotto i coglioni, eh. Però. Sì, vi sono perso, però. Oddio, che paura. Ma sto morendo. Ma come? No. No, sentate in un piccolo cieco. Orazio. Orazio, va via. E c'è ora ziati, ragazzi. Oddio. Pezzo di merda. Non so cosa fare. Dovrei guardare la strada. È così. Ragazzi, non so dove andare. È qua l'Orazio, l'ho visto. Ce l'ho dietro. Mamma mia, non si vede nulla. Che cazzo succede? No. Mi stava prendendo, ragazzi. Mi ha quasi raccolto. Ah, lo dovevamo fregare. Va bene. Vai, vai, vai. L'Ovino non ce la fa correre. Vai, vai, vai. Ok. Abbiamo oraziato. Sì. Solo che io la strada non la so. Dammi il sabataggio, ti prego. Questo pezzo qua l'ho fatto a culo. Sì. Che bello. Oh, lì. Discammi! No, sta arrivando. Discammi, sì, ma chi? Dove? Ragazzi, non so dove andare. Non voglio rifarlo tutto, ti prego. Ma la benda non l'hai presa. È il più grosso. No, ci sono pieno. È il più grosso incubo di tutti, ragazzi. Qua è rifare questi pezzi veramente che non sai dove andare. Ok. Perché è tutto storto? Lo vedi anche te che è un diagonal. Sì, è un'altra parte di cazzo. Attenzione, attenzione. Orazio, arriva! Sì, ho capito, ma non è che può seguirci sempre, Orazio. Sì, ho capito, ma non è che può seguirci sempre, Orazio. Sì, ho capito, ma non è che può seguirci sempre, Orazio. Ma siamo lì in un cubo, principalmente. Brutto, Orazio. No, gli uomini albero. Pure nella scuola gli uomini albero. No, ma è voluto, è credo. E poi credo appunto che siamo tornati. Ah, ok, vabbè. Meno male, veramente. In agonia. Attenzione, cos'era? Aspetta, per interagire, devo spostarlo per salire. Che cazzo? No, non l'ho capito. Qua sopra, forse. Immagino, eh. Ok. Gli uomini albero, ho ancora queste bende. Bene, bene. Ma non ce ne sono pieni, amore. Ah, ok. Da prima. Qui c'è da andare, eh. Andiamo piano, ok, arriva il mio uomini albero. Dove lo sento. Senti che urli. Oh, si va indietro. No, eh. Sì, 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 sì. No. Comunque sono qua. Non so dove sono, ma ci sono. Oh, ma non serve qua. Oddio, attenzione. Oh, stronti, ti sfido io. Oh, spero. Via. Oh, oh. Entra. Entra. Un po' col culo è fatto sto gioco. Allora, aspetta. Interagisci. Ah, ok. Benissimo. Sei chiuso, eh. Ce l'hai paura. Oddio, no. Sei tornato. E c'è una fila. Aspetta, non sto capendo. Qua c'è qualcosa che non quadra. Ah, ma qua sopra. Dove cavolo devo mettere sto qua? Non sto cercando di capire. Ah, qui sopra. Vediamo un po', più o meno. Ma ci sono sti qua che urlano. Cosa ha urlato a fare? Maledetti. Ok. Ecco. Oh. Dio. Poi ci guardavano. Vabbè, dire, guarda che sia bello. Lo so. Via, però. Via, 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 via. Io corro. Quindi dove si va? Madonna. Oh, no. Mi sembra sto chiuso, mister. Vai giù, no. Dove vi ho passato? Secondo me. No. Cazzo. Vai, tanto si riparte di qua, spero. È un po' pallosa sto punto, eh. Sì. Non si vede una secola. Dove? Qua sotto. Ok, bravo. Non è male che c'è lei, ragazzi. Sennò io ero già impallato lì a dire. Che cazzo devo fare? Qui è equilibrista. Che cazzo è imporro. Non ho bisogno di fare l'equilibrista io. Non cado mai. A vedere, eh. Oddio, attenzione. Il cacciotto, via. Il cacciotto. Via, 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 via. Eh, sei stronto. Eh, ricaccazzi. No, siamo a scuola. Che pale la scuola. Eccolo. Oddio. Orazio. Ma davvero? Tutto così? Questo pezzo qua? Noiosissimo, veramente. Noiosissimo. Con Orazio dietro, poi. Ok. Bene. Sarò stronzo. Eh. Eh. Ciao Orazziati. Sacco di merda. Sacco di merda. Non sapevo dove andare, ragazzi. Scusate. Ho aperto, ho aperto e chiuso. E beh, mi ha richiuso lì come uno scemo. Vabbè. Sei chiuso? Eccolo che canta. Sta venendo qua. Chissà come mai. Se andavo in quell'alto venivano lì. Ok. Ora ci fanno. Sapevo. Ah, non va bene sto posto. Orazio maledetto. Faccio così. Dov'è? Non so se dove torno indietro. Salvataggio. 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 Perché torno indietro? Ah, cazzo. Vero salire le scale io. Dove prima avevo incontrato lui. Eh. Non ho fatto bene. Però l'ho inculato stavolta. Hai visto che bravo? Bravissimo. L'ho inculato Orazio. Orazio e lo strazio. Non si vede nulla chiusa. Ah, moriamo. Perché Orazio ci pre... Oraziati. Ma è sempre così. Con Orazio finisce sempre così. Che c'era una porta dritta di te. Ma mi sa che è chiusa. Guardi qua va bene. Secondo me. Solo che c'era una porta qua sopra. Prima di quello che sono andato io. Questa. Dai, eh. Oddio, che palle, ragazzi. Poi si sforma tutto all'interno schermo. Non si capisce un cacchio. Bene. Ok. Silenzio totale. Non so. Cosa devo fare? Magari non va bene sto posto. C'è una finestra. Ah, un butto giù dalla finestra. Come ci arrivo? Non mi ci fa andare. Vabbè, allora no. Magari non è il punto giusto. Non lo so. Aspetta. Allora, così. Oh. Oddio, ragazzi. Che sbircio a fare? Scusate. Non si vede una pipa. Piove sangue. Che... Ah, di là c'è uno. Non mangiare il comune. Penso, ragazzi, che faremo più che poco. Poi chiudiamo. Perché abbiamo perso tempo. Troppo tempo. Queste scene qua con l'orazio. Dopo viene troppo lungo. Tardissimo. Salto. Oddio. C'è una porta oppure devi saltare. Ora si apre però la porta. Sì. Alvataggio. Questi uomini. Si fermiamo qua? Io mi fermerai qua. Va bene, ragazzi. Ci fermiamo qua perché abbiamo perso un mucchio di tempo. Comunque spero vi siate divertiti. Penso di essere verso la fine del gioco. Non so quanto mancherà. Speriamo perché veramente. Però che in due episodi massimo finiremo dopo questo. Lasciate un like se vi è piaciuto. Vi ricordo che guarda tutti gli episodi in playlist. Queste informazioni potete trovate in descrizione. Tutti i nostri social. Qualsiasi sito che mi possa servire. E noi ci vediamo con l'episodio di domani. Per oggi è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.